Mirko Brunetti è tornato ad essere single dopo la rottura con Perla Vatiero E adesso che è nuovamente, sul mercato, l'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello sarebbe finito nel, mirino, di un'ex tentatrice di Temptation Island Stiamo parlando di Maika Randazzo. Come evidenziato da Dejanira Marzano, Maika ha iniziato a seguire Mirko su Instagram, quest'ultimo, al momento, non ha ancora ricambiato il follo Ovviamente, il fatto che lei lo abbia iniziato a seguire ora che lui è single ha scatenato il pettegolezzo Anche l'ex tentatrice, dopo la fine della breve frequentazione con Lino Giuliano, ex fidanzato di Alessia Pascarella, è tornata ad essere single Il follo di Maika a Mirko non è passato inosservato ed ha già fatto infuriare i perletti Secondo alcuni di loro, infatti, la Randazzo sarebbe la causa della rottura tra Brunetti e Lavatiero Un'ipotesi che, però, è del tutto campata in aria, visto che anche Perla ha sottolineato che la decisione di mettere la parola fine alla relazione con Mirko è stata presa di comune accordo E che, non c'entrano terze persone Al riguardo, è stata la stessa Maika a rompere il silenzio e a smentire il gossip Follia raga, follia Nel frattempo, sembra esserci ancora speranza per chi spera in un ritorno di fiamma tra Mirko e Perla Nei giorni scorsi, inoltre, Dejanira Marzano, ha lanciato un'indiscrezione che ha riacceso la speranza tra i fan della coppia P e M si stanno risentendo Sicuramente per ora non è un rapporto chiuso Da fonti certe vi posso dare conferma che una coppia stanotte si è rivista e ha dormito insieme E ancora, come vi avevo preannunciato, ad oggi non hanno mai smesso di scriversi, è stato un continuo botta e risposta per cercare di chiarirsi Lei è arrabbiata con lui, dopo aver staccato la spina qualche giorno ieri si sono rivisti Sicuramente non subito, ma torneranno insieme Vi dissi che la storia non era chiusa, e così è stato